Oh! Ora, tira questo seterone su, ma non darà l'altaggio, mi sembri... Mi sembri un ottettino, eh? Ma che fai questo giorno, che stai sbagliato di un divano? Eh? Chi ti fa a far mangiare questo giorno? Eh? Le bollette si fa aiutare a ruotare? Le bollette, la patata? Eh? Le bollette, c'hai della cuccia? Eh? Le bollette, le bollette, le bollette, le bollette, le bollette... Eh? Eh? Eh?